Tutte le nostre parole saranno inutili se non vengono dal profondo. Le parole che non diffondono la luce di Cristo aumentano l'oscurità. Prima di permettere alla propria lingua di parlare, l'Apostolo dovrebbe elevare la propria anima a Dio, per versare poi quello che ha bevuto e dare quello di cui è pieno. Grazie a tutti.